e ciao ragazzi ben ritornati dal vostro energix oggi siamo qui su una nuova sera ragazzi siamo su cross duty modern warfare raga mi sembra che già in un video avevo annunciato che ve lo portavo spero che questo gioco vi piaccia ragazzi e niente volevo dire subito di iniziare raga perché non vedo l'ora siamo via 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 subito la nostra guerra non è per la nostra fede combattiamo per cacciare tutte le potenze straniere dal nostro territorio noi siamo al catala siamo gli assassini combattiamo senza saremo le andiamo in guerra senza la minima pietà è il solo modo in cui vivono e muoiono i veri soldati ecco 3 1 a capo charlie 2 mi ricevi capo zona di atterraggio in vista i nostri sono in orario colonnello ricevuto 3 1 le squadre hitman sono pronte all'assalto potete procedere colonnello abbiamo un problema siamo operativi è troppo tardi non finché lo dico io uo c'era 3 1 puoi ricevermi capo sezione laswell in ascolto il generale barkov ha inviato altro gas al suo deposito i suoi mercenari lo trasferiranno in orzikstan questa notte ci sarà più resistenza del previsto potrete ingaggiare ma non aprite il fuoco niente incidenti internazionali non possiamo sapere se i russi faranno altrettanto ricevuto alex voi trovate il gas prendete i camion di parto e andate via prima che vi andate ricevuto voce ci siamo aspetta un attimo ragazzi l'opzione sensibilità eh trovo 3 bassi 5 9 e 6 dobbiamo fare presto gli uomini di barkov trasferiranno il gas stanotte probabilità di trovare il generale barkov dubito che si farà vedere da queste parti ragazzi già il gameplay diciamo all'inizio è bellissimo poi l'audio è bomba raga ma che cazzo è quell'audio raga è troppo forte mamma mia attenzione ne sento due ottimo due mercenari niente uniforme a terra via libera gg ragazzi ho fatto un indice ho fatto una madonna ora mi sono d'accordo di sopra comunque ragazzi la mia play che fa un bordello ecco 3-1 a blu viking 5 attacco richiesto attendere conferma versagli ricevuto 3-1 viking in attesa per mostriamo l'aria controlliamo che non ci siano militari russi un veicolo al cancello principale movimenti alla ferrovia ecco come arriva il gas veicolo in movimento prendi di mira il cancello principale nessuna presenza militare russa procedi ecco 3-1 comunque avrò sbagliato sicuramente viking in rientro buona caccia grazie viking adesso facciamo da soli e va te attenzione nemici muri a piedi facciamo avvicinare il casazzo io mi struggo a questo e che corre così lento così imparano ad armeggiare con quella roba e bravo bravi farebbero la texture di questo e che mi corre lento nemici all'interno buongiorno come ti permesso come si è permesso lei sanno della nostra presenza ragazzi i nervi saldi spostati e va te vi cazzo levati la granata mi interessa nooo sono morto scende il paio nello io ho sbagliato io contatto avanti becca ho colpito ho colpito un bersaglio 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 sono tre gli edifici 30 metri non capisco che sensibilità ragazzi è troppo bassa troppo troppo bassa 11 9 vicino a quella barriera occhio alla luce muoviti quando si sposta avanti ricevuto sono in direzione sud contatto visivo ah beh adesso c'è la luce di merda mi è sempre amato è rata oh il gioco ho colpito un po' è il gioco è il gioco è il gioco è il gioco non mi sono state dritte sei vittor scopri con i migliori andiamo ricevuto Il fuoco su quella mitragliatrice, ecco! E salta la finestra! Ehi, non vedete! Mitragliatrice K.O. GG. Ben fatto, Gia! Dove siete voi? In marcia! Va beh, le gama, ce l'ho no! Nemici in fuga! Uno verso il magazzino! Ho colpito un bersaglio! Ehi, copritemi! Nemici in direzione ovest! Ma si va bene! Libero! Il gas deve essere dentro! Non è troppo tardi! Libero! Libero! Precorre lento, roga perché? Libero! Potrebbe esserci gas. Maschere! Il Gio forte è la cazzina con una maschera. Facciamo? Facciamo cazzino questo, diciamo, il movimento con la maschera. Non voglio pure parlare. Che cazzo! Hanno staccato la corrente. Usiamo le torce. Qui dentro è un mio pesto. Sentito? Cazzo! L'avete visto? Trovatelo! Ah no! Dov'è? Dov'è? Mamma vera! E basta! Ce n'è più! Ce n'è più! Ma ragazzi, qua è difficoltoso, eh! Libero! Via libero! Attacchiamo la corrente! Facciamo luce e troviamo il gas! Ricevuto 3-1! Cerco! Ok! Cerco l'interruttore! Vediamo corrente! Troviamo il gas e andiamo via da qui! Corrente in arrivo! Corrente! Ehi! C'è un problema! Questi sono militari russi! Speznaz! 3-1 a Watcher! Barco fa soldato degli Speznaz! Abbiamo ucciso militari russi! Dobbiamo filarcela! Negativo! Per il comando la missione è prioritaria! Non c'è scelta! Ovvio! 3-1 chiudo! Noi cerchiamo il camion per l'uscita! Ok! Quale sono queste cose? Ah! Le pò le bomba a gas! Esamina! Esamina! Bingo! Gas identificato! Ricevuto forte e chiaro 3-1! Scaricate e rientrate alla base! Poi ti pregiungo! Vai davanti! Qua! Entra! Adesso lo gioco già mi sta piacendo! Adunte le unità siamo in movimento verso il punto d'incorso! Massima allerta! Ottimo lavoro Alex! Adunata al punto d'incontro per l'uscita! Morto! Oddio c'era un rpg la da! Qua c'era 3-1! Si chiedi! Alex! Mi sento! Bacca! Si sono! Fremano! Si sono! No! Wittman è morto! No! Morto! Cazzo! Chi cazzo sono? Non lo scemo! Questo si è! Sidi! Tantara! Ma non lo sei! Barini! Fammi darmi! No! Vabbè! Vabbè! Fammi darmi! Farrà! Caracca! Vabbè! Vabbè! L'Eco 3-1 a Watcher! Alex! Cos'è successo? Un attentato! Diversi marini uccisi! Gas rubato! Venite subito a prenderci! Ricevuto! Rilevo parecchie forze russe dirette verso di voi! Tenete duro! Veniamo a prenderti! Watcher chiudo! Quest'operazione è stata compartimentata! Ma che cosa cazzo vuol dire? Che non hai più autorità, colonnello! Quelli sono i miei marine! Lì serve una forza di intervento rapido! Questo non è consigliabile! Laswell non sta a te decidere! Colonnello! Laswell! Generale, i miei uomini... Norris, dacci un minuto, ok? Sì, signora! Abbiamo un problema Il Cremlino ha sospeso le comunicazioni diplomatiche La sesta flotta avanza nel Mar Nero E le armi chimiche sono chissà dove Stai lasciando dietro di te troppe tracce Laswell Rimedia Generale L'intelligence è la nostra arma migliore Abbiamo già provato l'intelligence Dammi qualcosa di meglio John Laswell Dove sei? Al lavoro Ho un problema Russi? Le voci corrono Le armi chimiche sono in mano ai terroristi Non so dove siano Parigi, New York Londra Quando il briefing? Appena fatto Londra L'agenda risponde Qui Garrick Massima allerta terroristica Possibili assalitori multipli Camicaggio Forse peggio Abbiamo cecchini in posizione No, negativo Non deve scoppiare il panico Terroristi sono d'accordo Garrick Non trasformare Londra in una zona di guerra Chiaro? Sì, capito Chiudo Sembra che siamo da soli Andrà bene Diamoci da fare, ok? Ok Sergente Occhio Armi in vista Sono loro Saber Raven Furgone bianco Diversi uomini in età militare Armi visibili Intercettiamo Ricevuto In assenza di attacco Non ingaggiate Furgone bianco Sì Pensavo che dovevo sparare Via, via Sono qui Sono qui Andate Polizia Fermi Mane in alto Subito Faccia a terra Ultimo affettime Non lo ripeterò Foto Ma che cos'è sto bordello Libero Cazzo Brunca a terra Cazzo L'hanno beccato Sei per due Che cazzo succede Detonazione a piccadilly Circus Colpi d'arma da fuoco Agenti a terra Qui serve assistenza medica Cazzo Guarda come hanno ridotto Cazzo L'hanno finito Andiamo Passi Non mi ti cucine Automatici E noi abbiamo Delle piccole Del cazzo Hai ragione Controllo messo Controllo messo Sì Algo Whisky Sei lì Parolo Si attaccano Sbiccadilly Cerco Spermi Assistenza Invegliata Sbiccadilly Cerco Sbiccadilly Si è la proposta! Che fanno? Hai colpito la schiena?! Non potete stare qui! Tutte le unità, attacco in corso a piedi. Qui si sa bene, non si è ritorno. No, non è mai che... 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 Salve se ne va! State giù! Si! Porta tutti al sicuro! Si signore! Son... Non ci passate le avversi, oh Dio... Per avversi qua, già, nel mondo! Alle non ci bastano in questo gioco, il cinese! Guarda questo! Oh! Che pezzo di merda! Oh, il cinese! Oh! E da nord! Oh! Carlo, che sono di quantità! Raven! Sei per due! Qui ci servono rimforzi! Forte armate in abilità... A tutte le unità, sospettati, confinati nel Palazzo Santo. Possibile presenza di ostaggi. Presidiare il perimetro. Colpi in palazzo, diverse vittime. Almeno quattro sospettati. Di uno o due, ancora nei palazzi. Raven Saber 2, un ostaggio ucciso all'interno del negozio di elettronica. Edificio Nord, un sospettato ucciso. Le mediche di emergenza è in arrivo. Non c'era un altro modo! Non c'è! Alvea automatiche! Alvea 2 con Stoyan! Alva 15-109! Fa un culo! Finale a scossa a Tendere! Contraia la prova del rigo! Qui Saber 2, libreria in sicurezza. A tutte le unità, divini in uscita dal bus alla fontana! Dobbiamo fornire supporto! Allora! Raven, qui Saber 2! Dove cazzo è l'esercito? Dove sei? Mi ha parlato perché te li devi avviare in capo. Tempo all'arrivo in moto. Andiamo! Ragazzi è impossibile! Mamma mia! Ragazzi è una cosa che sto dicendo vero. È una cosa tipo delle pizze... Delle gambe di merda! Ricevuto! Aspettati, ci ritirano nel Palazzo Tanto a Nord-Ovest. Tutte le unità convergano sul Palazzo Tanto. Prezzo! Lì! No, morri! Sposta! Alleato! Ricevuto! Sei armato? Affermativo! Capitano Price! Sergente Garrick! Vieni! Ok. Occhio agli angoli! Aiuto! Ostaggi, in alto! Guazzù! Qui ci serve aiuto! Toglietela! Vi prego, toglietela! Sergente, mi servi qui! Aiutatemi! Non sono uno di loro! Tutte le unità, uomo con una bomba addosso. Non avvicinarsi. Non voglio morire! Si apre! Vuoi aiutarlo? Ci provo! Le mie bambine! Esploderà! Si riescono! È tardi! Aiuto! Aiuto! Che vuoi fare? No! No! A tutte le unità. Problema risolto. Terme un medico, usciamo. Ragazzi, ma... Ti tireremo fuori. State calmi. Oh mio Dio. Tutto bene? Sto bene. Andiamo. Hai salvato delle vite, sergente. Non sarebbe comunque dovuto succedere. Abbiamo rischiato grosso qui. E soltanto per far finta di non essere in guerra. Già, la più grande stronzata del secolo. Allora perché abbiamo le mani legate? Basterebbe togliere i guanti e combattere. Signore. Continua. Con queste regole d'ingaggio non combineremo nulla, capitano. Possono dirci dove, possono dirci quando, ma non come farlo. Seguivamo la cellula da tempo. Avevate informazioni valide? Parecchie, signore. Ok, Garrick. Vieni con me. Alcatala ha rivendicato l'attacco. L'ordine veniva dal lupo in Urzikstan. Alex è lì a cercare le sostanze chimiche. Avrà bisogno del supporto dell'ULF. Dili di contattare il comandante. Conosci il comandante? Quanto basta. Fate il mio nome. O lo uccideranno. Qual è il messaggio del capitano Price? Comandante Karim, chiamami Alex. Ti ascolto, Alex. Informazioni riservate. Andate, cugini. Preparatevi. 48 ore fa è stato rubato un carico di gas russo. Opera di Alcatala, sicuramente. I russi non fanno distinzioni tra Alcatala e la tua gente. E io non faccio nessuna distinzione tra Alcatala e i russi. Sono entrambi terroristi. Non useremo mai quel veleno. Allora aiutateci, prima che... Che cosa? Arrivi in Europa? O in America? Viviamo così da sempre. Comandante, dobbiamo andare. Lui chi è? Alex, lui è mio fratello e tenenti a dir. Sei della CIA? Lavora con il capitano Price. Allora uccidi i russi, vero? Ho degli amici che possono aiutarci. Ma sarà tua sorella a decidere. Ma certo. Mia sorella ha il comando. E i russi si trovano ancora qui. Quest'occupazione deve finire. Su questo siamo d'accordo, vero? Varkov controlla la città. Questo deve cambiare. Non possediamo missili, ma abbiamo altri metodi. Se resti ti aiuteremo. Ma se lo fai, combatti. E allora combattiamo. Benvenuto in Urzikstan, Alex. Seguimi. Ok, ragazzi. Queste gallerie sono la nostra salvezza. Oggi in città arriveranno dei comandanti russi. Faremo un'imboscata. Come? Esplosivi? Attireranno l'attenzione? Ok, ragazzi. Io direi che questo episodio... Alex, prendi queste cariche. ...si può concludere qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, poi in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo video.